Sono il paganini delle percentuali finanziarie Secondo me sotto è il Puppers Decisi di sperimentare le supposte di adrenalina Energia in direzione ostinata e contraria Vi presento Tommy il Goblin Era ora che il grande capo decidesse di sbarazzarsene E' utile come la fotocopiatrice rotta nel ripostiglio Coglione Perdigiorno Coglione Io non la pago per fare la suppellettile Coglione Cosa fa l'impalato? Si sieda Codardi Non dovrei parlarti così Tu sei una signora Come procede l'azienda? C'è crisi Delfina Je m'appelle Delfina 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 Delfina